10.000 di gold gratis per tutti quanti su squad busters veloce ragazzi veloce il momento ora mi racquando però prima un bel like iscrizione e campanellina per supportarmi a fare sempre nuovi video grazie mille perché lo farà per voi gratis ma per me fondamentale lo dico sempre ma partiamo perché il video di oggi ragazzi è qualcosa di veramente assurdo sbalorditivo magnifico perché ragazzi supercell o meglio squad busters tutte e due hanno fatto il content diciamo che l'aggiornamento fa davvero schifo ma il content esterno che ha fatto supercell è voto 10 voto 10 ragazzi forse ancora in molti di voi non stanno capendo di cosa sto parlando ma arriviamo con calma prima di tutto io mi prendo le mie 30 zucchette giornaliere che pian piano si farmano e così via riscattiamoci una cassettina raro 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 più uno più uno niente 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 comunque raro grande vi devo dire non è per niente per niente male perfetto ragazzi 5 ed è fatta potenziamoci nella squad chi ci possiamo potenziare la nostra carissima jesse di un upgrade e andiamo nel negozio beh sapete ragazzi vorrei proprio shopparmi questo pass peccato che costa 12 euro ragazzi vorrei proprio prendermi questi ticket peccato che costa 1 euro e 20 vorrei avere 60 mila di gold ma costa 5 euro vorrei comprare un milione e 250 mila di gold ma il costo è di 120 euro beh supercell ha risposto supercell ha cambiato e rivoluzionato totalmente l'economia di questo gioco vi chiederete come chili cosa stai dicendo perché tutto questo hype per una cosa così semplice non dovevi darci solamente 10 mila di gold ragazzi con calma con calma vi basterà andare su google su chrome su safari qualsiasi motore di ricerca va bene e cercare all'interno della barra di ricerca supercell store ma cos'è il supercell store ragazzi è un negozio semplicissimo ufficiale supercell dove si possono comprare oggetti pacchetti di tutti i giochi supercell ad un prezzo minore con delle offerte diverse con skin esclusive e così via l'abbiamo avuto per brawl l'abbiamo avuto per clash of clans l'abbiamo avuto per royale e i dei manca boom beach ma boom beach non gliene frega niente a nessuno e adesso ce l'abbiamo pure per squad busters è stato introdotto oggi ed è credo la cosa più assurda che è mai stata aggiunta innanzitutto ragazzi prima di vedere quello che esce tra le offerte io vi do un consiglio fate l'accesso infatti dice accedi gold supercell id noi facciamo l'accesso metto la mia bellissima mail ecco qua ho fatto l'accesso ragazzi qua arriva arriva davvero lo scandalo più grande del mondo abbiamo una valanga di offerte quella di cui parlavo oggi regalo 10.000 di gold ma ne parliamo dopo ma da questo rato ragazzi abbiamo le due offerte più fighe degli ultimi anni le offerte che probabilmente andrà a finire che le compro entrambe o almeno sicuramente una la compro la prima bundle ultra conveniente un milione di gold 30 ticket 3000 ticket dello stile 10 per 2 10 per 3 10 per 4 a 24 euro quando solamente il milione dentro squad busters ragazzi no questa cosa è assurda quando solamente un milione di gold dentro squad busters costa 120 euro qua invece ragazzi un milione più tutte queste cose 24 euro ma stiamo scherzando cioè per tutti quelli che hanno shoppato fino ad ora è la rivoluzione è la rivoluzione infatti ragazzi che dovete shoppare vi direi codice giri non ce l'ho perché supercell è stupida non capisce che come community number one in italia di squad busters avrebbe un minimo di senso gioco morto com'è darmi almeno il codice creatore a me come ad altri creatori italiani che portano squad busters e che sono veramente bravi ci starebbe darcelo a noi secondo me potremmo fare un buon lavoro comunque un'offerta che io al 100% invece shop ragazzi bundle super conveniente col per 10 di convenienze in più ma perché questo ragazzi c'è 200.000 di gold che costa già 23 euro solo 200.000 di gold poi abbiamo 15 ticket 1800 ticket dello stile 5 per 2 5 per 3 5 per 4 a 6 euro a 6 ma stiamo scherzando ragazzi allora io forse non ho capito o supercell è un genio perché supercell ci vuole far acquistare queste cose ma 6 euro tutto quello che c'è è uno dei bundle più più convenienti degli ultimi 14 anni vi giuro io lo compro sicuramente e poi qua abbiamo il regalo ma attenzione perché qua abbiamo pure il pass e altre cose le vediamo con calma perché ragazzi supercell fa aggiornamenti a random intanto ci prendiamo quello per cui questo video è stato fatto quindi sì 10.000 di gold gratis io personalmente ragazzi me lo riscatto fammi fare un bello screen se riusciamo senza far esplodere tutto ok questo bel tastino gratis schiacciamo gratis ragazzi non ci credo eccolo qua ritirati hai ritirato 10.000 di gold ok grazie adesso appena entreremo dentro al gioco ce li dovrebbe dare e continuiamo ragazzi il pass acquista il pass e attivalo in gioco quando vuoi innanzitutto ragazzi si può acquistare il pass però il prezzo è lo stesso 11 euro e 99 per il superpass un po' uno scam senza aver notato però ragazzi che c'è un bonus per comprarlo in questo store infatti se tu lo compri in questo store avrai 5000 gemme quindi 5000 gemme per avanzare di livello nel pass ti fanno salire di praticamente 5 livelli quindi tu paghi il pass più 5 livelli gratis quei 5 livelli sono in più gratis ragazzi e questo qui sono offerte geniali e per questo vi dicevo chi vi dicevo non comprate il pass non comprate io ve lo dicevo per un altro motivo ma se ascoltavate kirri era questo il momento per cui acquistarlo è questo il modo che ha senso acquistare il pass io ancora lo devo comprare quindi lo comprerò tramite il supercell store e continuiamo ragazzi continuiamo perché qua abbiamo invece altre offerte dove si il prezzo del loro è praticamente lo stesso che alla fin dei conti è quello infatti 10.000 di gold 1.19 in realtà queste qua sono offerte minime che dentro il gioco non esistono oppure questa qua da 2,50 euro non esiste abbiamo nuove vie di mezzo se vuoi prenderti solamente 20.000 di gold che ti servono precisi precisi puoi prendere e spendere 2,50 euro ma come vedete i prezzi rimangono uguali 5 euro 12 euro 120.000 di gold 1.250.000 di gold 120 euro i prezzi sono quelli attenzione che però supercell è saggia supercell ne sa avalanghi molto molto bene perché qua ragazzi 120.000 di gold 12 euro 110.000 di gold 12 euro più attenzione 11.000 di gold bonus e voi direte vabbè pochino ma se più saliamo di prezzo ragazzi già tipo qua 60 euro 600.000 di gold 60.000 di gold gratis stessa cosa qui che qua la situazione invece cambia davvero un sacco 1.250.000 di gold più 125.000 di gold ragazzi non so quante volte ho sbagliato i numeri in questo video però vi devo dire che è assurdo è assurdo ti aggiungono 12 euro agli acquisti torno a dire le offerte che tocca prendere sono queste due io personalmente ragazzi ce lo farei un pensierino perché è un'offerta che quella a destra è da prendere non c'è non c'è né man né skin né passa da prendere per forza ragazzi questa qua bundle super conveniente a 10 per essenziale da acquistare secondo me anche se non shoppate anche se non avete tanti soldi sono 6 euro sono comunque soldi certo ma sono fattibili quindi cercate di prendere un po' di soldi la andate al negozio prendete magari una carta app store google play store vi cambia un po' il modo di giocare cioè vi da un bel boost se invece avete già un po' di soldi da spendere ve li siete conservati se spendete 24 euro ragazzi voi siete praticamente salvi dentro godbusters non avrete mai più problemi di gold per almeno un anno con questa offerta ragazzi non avrete più problemi di gold per un anno i ticket lasciamo stare che sono tantissimi ma un milione di gold a 24 è un'offerta che non si ripete io ci faccio un pensierino sono comunque in totale super giù 30 euro più il pass so soldi ragazzi per carità ci penso ci penso magari faccio un po' di content in uno dei dubbi vi chiedo un like iscrizione così da potermi far shoppare un po' di più grazie mille per chi lo fa ragazzi comunque chi si viene sempre aggiornato tempo record adesso dov'è il mio gold me l'ha giunto ragazzi non so se mi è giunto il gold non mi ricordo ma quanto è no ragazzi regalo articoli inviati ok no che hit ragazzi più 10.000 di gold monete tocca per continuare non ci posso creare bellissimo un applauso un applauso ragazzi un applauso a supercell diciamo che questo compensa lo schifo dell'aggiornamento una cosa di questo genere l'aggiornamento al supercell store compensa l'aver fatto lo schifo come update un aggiornamento abbastanza mediocre viene compensato da questa aggiunta un applauso a supercell se lo merita ragazzi se lo merita brava mamma supercell voto 10 all'ode per questo update complimenti davvero un sacco io qua quando è che riesco ad ottenere il mio carissimo leonidas si leonidas ma di che parlo il mio carissimo colonnello ringhio che poi sto evento tocca finirlo a prescindere perché ragazzi la skin la vuoi e certo che la vuoi la skin ma che fai te ne privi non è no che non te ne privi tocca giocare tocca giocare ce l'abbiamo mevis no niente mevis ragazzi che scam detto ciò io spero che questo video molto breve molto sintetico vi sia piaciuto un bel like iscrizione e campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i contenuti dei giochi supercell guardate i video che sono appena preso accanto che subito dell'altro fate l'abbonamento e supportarmi noi ci vediamo in un prossimo video di squadbusters ciao ciao